Accelerare la ricostruzione privata e semplificare quella pubblica, lo ha detto il commissario straordinario alla ricostruzione Giovanni Legnini in visita a Norcia. Il commissario accompagnato dal sindaco Nicola Lemanno e dal direttore dell'ufficio ricostruzione dell'Umbria Stefano Nodessi Proietti ha visitato il centro storico della città che conta oltre 2.300 abitazioni lesionate, molte in modo grave e danni ingentissimi al patrimonio culturale e alle infrastrutture. Legnini ha incontrato i sindaci dei comuni umbri colpiti dal terremoto, ascoltarli ha detto non è solo un dovere ma rappresenta il modo migliore per conoscere rapidamente la difficile realtà delle aree colpite dal sismo. Con voi voglio avere un rapporto diretto costante e apertissimo, ha aggiunto, è essenziale per recuperare il tempo perduto ed accelerare la ricostruzione, ha detto ancora Legnini, aggiungendo di voler visitare tutti i comuni del cratere.